non ti preoccupare è un giorno molto delicato ma ciao come stai? grazie di essere qui 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 con me oggi 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 ti ho invitato qui perché so io lo so che tu hai bisogno di prenderti un momento di pausa un momento per te stai veramente tanto al massimo in questo periodo e so che devo un po' obbligarti a fermarti e rilassarti e quindi oggi sono qui per te e pensavo come scusa di farti una bella skin care se ne dici magari anche meriti qualcosa sulle mani pettinarti i capelli insomma proprio voglio prendermi cura di te perché perché te lo meriti e perché veramente stai facendo un lavoro splendido in questo periodo quindi mi sono veramente veramente fia di te tanto tanto e quindi oggi lo dedicherò proprio a te allora prima volevo accendere una candela intanto i colori ti vanno bene preferite i colori diversi va tutto bene vado accendere questa candela no non è tossica assolutamente ci sto attendo ti faccio sentire e si chiama Tulum e questa profumazione appunto dovrebbe ricordare il mare la natura cosa c'era di più rilassante quindi andiamo ad accenderla così dopo sia si crea ambiente sempre una cantina un ambiente rilassante sia perché sia perché penso sia non è andato penso sia bello avere un aroma intorno ancora più rilassante ok questo lo metto sotto anche io adoro tanto le candele profumate e poi volevo offrirti un bicchiere d'acqua fresca e oggi per te ho portato un bicchiere speciale per una persona speciale questo questo è il nostro bicchiere per i cocktail per le bevande un po' più elaborate ma tutto è meglio di comunque anche solo per della semplice acqua di quanto ne vuoi? direi un bicchiere ok ecco a te ecco a te quando la finisci dimmelo che la riempiamo ancora intanto l'appoggio qui e poi infine ti volevo chiedere se volevi qualche frutto una mela una banana una pera un mandarino un mandarino ok te lo sbuccio subito l'acqua Grazie. buono l'odore del mandarino tu lo fai essiccare sopra il termo anche io anche questo è a tua disposizione ne vuoi un'ora? tieni e bene adesso che hai tutto quello che ti serve dirai che hai bisogno di qualcos'altro no? posso legarti i capelli questa facetta per lo skincare che io adoro che bello è fatta a coniglietto quindi qui è elastica poi qui invece si fissa ecco qua ok come stai bene? adesso io ho le mani pulite ovviamente non avrei neanche sbucciato il mandarino se non ce le veste pulite prima di cominciare volevo un attimo avvicinarmi e guardare un pochino meglio il tuo viso guardare se c'era qualche esigenza in particolare e io ti proporrei di fare uno scrub perché secondo me soprattutto sul naso può può essere utile sia normale che il naso sia un po' ruvido e poi comunque secondo me uno scrub ogni tanto ci sta ci sta tantissimo e che e poi direi che ti faccio una skin care idratante illuminante che allora prima ora vado a tamponarti il viso con dell'acqua ok rilassati 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 guardati guardati di questo momento spero da te molto bene molto bene che bene ecco 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 gel detergente di chiada regnans vitamina c più alcuni acidi ad effetto illuminante di colore tutto albinato che ecco un ecco 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 e vado sottoviso non ti preoccupare nonostante sia un gel assolutamente dopo la tua pelle non risulterà secca no 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 non ti preoccupare è un gel molto delicato ma che deterge insomma in profondità a me piace usare più una mousse di giorno e un gel di sera perché appunto trovo che il gel proprio anche una cosa un po' secondo me mentale trovo che mi aiuti a togliere il più invece la mattina la mousse è una bella coccola mi asciugo le mani e adesso vado a rimuoverlo con questo asciugamano delicatamente asciugamano ovviamente che bagno molto delicato non ti preoccupare e ecco qua molto bene cerco di non scordare nessuna parte del viso e anche qui sul collo perfetto dopo averti lavato il viso e prima del tonico ti hai fatto lo scrub questo si chiama magic trick e ha questo colore super bello super bello secondo me è uno scrub delicato con olio di argan e olio di sesamo e lo prelevo con un pennello e lo metto sul viso e poi però lo spalmo con le mani è appunto molto delicato quindi non ti preoccupare perché non irriterà assolutamente la pelle proprio bellino il colore e vado appunto a distribuirlo sotto il riso sotto il riso sotto il riso e adesso lo spalmo lo spalmo e adesso lo spalmo allora intanto cerco di concentrarmi molto sul naso quindi questo veramente nonostante praticamente tu non lo senta riesce a far difendere il naso veramente molto morto io non uso mai scrub troppo aggressivi perchè troppo che anche questi facciano un ottimo lavoro quindi è avuto di stressare la pelle in quel momento ok visualizzano sotto gli occhi anche le labbra che faremo dopo se qualcosa ti piace particolarmente dimmelo che te lo regalo assolutamente lo sai che io ho tantissima skin care perchè mi piace e non butto ma esagero nel comprarle dopo ne ho troppa ecco non riesco ad utilizzarla quindi assolutamente dimmelo e ti preparo la bustina con tutte le cose a porta da casa per rimuoverla utilizziamo sempre l'ascica mano come ti senti? come ti senti? sta in genellio? lo so, lo so che ti serviva lo so che ti serviva lo so con per te quando vuoi quando vuoi quando vuoi mi sono disponibile lo sai che mi rilassa fare queste cose mi piace tantissimo passare del tempo con te e trovo proprio e trovo proprio soddisfazione anche nel far rilassare le persone è quasi una vocazione poter farlo di lavoro e quindi mi fa super piacere a tutti e adesso dopo il detergente ovviamente passiamo al tonico questo il tonico si chiama L'HOMO BLUMONDES è arricchito con olio di jojopo bio olio di cendella bio olio d'oliva bio sostanze dalle proprietà idratanti addosso da anti-dermoprotettive e con aloe vera dalle note proprietà anidive generanti e si chiama non more BLUMONDES perchè è pensato anche per proteggere dalla luce blu degli schermi ti metto questo perchè è un tonico un pochino più corposo ci posso vedere chi va vedi sembra quasi un siero e essendo un pochino anche quasi idratante preferisco metterlo di sera per dare un boost di idratazione in più quindi andiamo lo vado a tamponare sul tuo viso molto bene ecco ha anche un odore veramente buonissimo un po' d'uolce un odore molto presente comunque si un po' piacere o non piacere a te piaccia bene per fortuna ora ora contorno occhi non so se in realtà far di prima una maschera viso e dopo mettere a te il contorno occhi si si facciamo così allora prima maschera viso ho portato tantissime posioni so che ti piacciono le maschere in tessuto quindi ho scelto di prendere queste e ne ho preso un po' allora cominciamo guardiamo questa è una maschera di skincare coreana fatti meningoria fatti meningoria energizzante e idratante con estratte di licopene ci vediamo poi sempre di skincare coreana ho queste due questa l'ho presa prima di eliminare i derivati animali quindi ormai ce l'ho è a base di bava di lumaca sempre della skincare coreana ed dice che c'è acqua ossigenata non capisco comunque è fondamentalmente che molto 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 idratante questa invece ho anche un'altra che è anche ringiovanente diciamo così a base di a base di bu guardiamo se qui non lo so non lo so non da cercare comunque dovrebbero essere degli acidi sono che tanti e collagene questa è proprio bella poi invece più classiche ho questo di hanno body che sa di cocco e questa è per un booster di traduzione si chiama cocco si chiama e poi ne ho traleggiata ne ho una maschera viso in tessuto effetto illuminante alla vitamina c ne ho una esfoliante illuminante bello non so sarei curioso di provarla anche se di me a base di acido lato bionico pomodoro pochi di goji melograno e infine ho quella per nemitiva o quella nemitiva per pali delicate complesso protettivo vitamina F ripesa nero mertillo quale ti va? sei curioso di provare quella coreana? la sapevo ti conosco lo so ti ispirano tutte lo so benissimo però sapevo quella coreana proprio te l'abbè stuzzicata la curiosità allora si lascia 15 minuti intanto ne faremo altro queste sono sempre pienissime di siero veramente infatti non ti metto neanche il siero perché queste proprio sono impregnate di prodotto non 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 ho ok della facciamo che si attacchi bene all'uso si devo dire che è fatto molto bene e non è troppo appuntante o ha dei bordi strani ok adesso prima di fare lo scrub e la maschera alle labbra volevo usare questo strumentino qui lo dirai Chiara ma che cavolo è e faresti bene chiedertelo però è in realtà un massaggio dovrebbe varie parti del corpo perché perché ha queste tipo anche per il collo queste cose qui per le gambe eccetera ma volendo si può essere appunto anche sul viso quindi è come se fossi un po' il quascia insomma quella pietra semplicemente su questo strumento e vado un po' a modellare a massaggiare il tuo viso e a stimolarlo con questo strumento e anche a far raderino un po' meglio insomma la maschera ok ok no non fa assolutamente male così ok in modo da modellare dall'altra parte dall'altra parte eh sì come senti sono veramente molto delicato non ti preoccupare di questa cosa ma sai che le sto attenta è un po' sul naso un po' sul naso qui sotto la bocca ok ah a posto è piacevole lo so è piacevole e poi invece adesso voglio metterti visto che questa maschera non ha appunto lo spazio per gli occhi voglio metterti questa crema occhi di Charlotte Tilbury la Magica e Rescue anti rughe il pack devo dire che adesso nell'ultimo anno sono diventata fan più dei pack minimal semplici ma trovo ancora questo pack estremamente elegante e bello proprio anche da ottenere penso che lo terrò lo sterilizzerò ci metterò qualcos'altro all'interno è la crema è fatta così così è molto 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 corposa e ne prendo un altro po' e non è pensato per la notte ma è assolutamente la metto di notte perché per me sarebbe troppo e appoggio lo divido lo divido e la metto prima sotto un occhio aspetta chiuso gli anulari andati piano piano ok io vado anche proprio a massaggiare bene il prodotto bene e anche questo intanto si assorbe passiamo alle labbra allora vediamo ero convintissima di averti preso anche uno scrub labbra ma a quanto pare che hai fatto beh ero convintissimissimissima e vabbè niente mi dispiace perchè è stupendo per me farsi uno scrub labbra comunque adesso invece prendo questa maschera labbra nutriente niente è stata proprio per la notte un odore molto buono anche questo e vado a mettertela sulle labbra sulle labbra sulle labbra sulle labbra sulle labbra sulle labbra con te un odore molto e esatto esatto Io voglio usare questo, questo è il famoso olio di Monoi, ha un odore pazzesco perché praticamente da quello che ho capito è un olio di origine polinesiana, cioè è un prodotto tipico polinesiano che sono tutte appunto le donne che si mettono non solo sui capelli ma anche sul corpo come olio proprietarante, sui gomiti, come è un veramente multiuso ma soprattutto sui capelli, sulle punte ed è fondamentalmente deriva dalla fermentazione del fiore di tiaree e di olio di cocco quindi infatti come vedi è solito perché il fiore di cocco quando c'è un po' freddo si solidifica, quindi è normale Sì, questa me l'hanno regalato su un piaggio, cioè me l'ha regalato quando veniva da un piaggio in polinesia e ovviamente ha un profumo che quasi ti porta lì su quelle spiagge oggi abbiamo rivocato il mare l'estate più volte, a te mancano? ne prendo un bel po'? beh, vedi io ho contatto con la pelle già si sta sciogliando diciamo che è normale quando... questo si può scompotrarti Luca lo scatto lo passa fra le due punte lo passa fra le due punte è normale sentire voglia d'estate d'inverno e voglia d'inverno d'estate o meglio io l'ho mai capito voglia di mare d'inverno e voglia di montagna d'estate voglia di mare d'estate d'inverno e voglia di montagna di neve d'estate lo posso fare un pochino anche sulle proprie lunghezze è veramente validissimo ne ho più di un pochino e li sto usando tantissimo anche perchè quel profumo è paradisiaco eccoci qua ok ok mi ha messo un po' anche a me perchè ha rimasto un po' di residuo e non volevo esagerare con te e si aiuta veramente tanto lì con il respo così può mettere come maschera prima vediamo i direi bassi capelli se siano le pelle se siano le punte molto secche adesso vado un po' a pettinarli nell'attesa appunto che la maschera faccio il suo effetto è ipnotico è ipnotico senti? sento un libro di stellina anche questo mi è stato regalato ed è troppo carina anche da tenere in borsa cioè è bellissima e adesso ti perdiamo i capelli che so che ti rilassa veramente tantissimo lo so no 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 Sì per l'albero un po' dietro un po' dietro ultimamente sono molto belli i capelli questo è molto bello hai cambiato piastra? la quella di prima si cambia molto ci sta e dovrei cambiarlo che non mi va secca tanto purtroppo cerco di distribuire il cabello le cocco e anche il monoe bene 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 vediamo un po' anche io visto che non ho piastrato i capelli io direi che possiamo togliere la maschera ok molto bene l'ho messa via adesso vado a distribuire un po' meglio il prodotto sul tuo viso sul tuo viso e farlo assorbire un pochino ok sì in queste maschere ce n'è troppo infatti mi sa che quello in eccesso comunque mi metterò io come siero domani perché mi metterò mi metterò mi metterò un po' meglio mi metterò mi metterò un po' meglio molto bene molto bene sì va bene allora io sto guardando un attimo i prodotti che ho con me e direi che ho usato quasi tutto volevo solo prima di lasciarti andare ormai di tenuta in nostalgia giù un bel po' volevo metterti una crema mani solo che ho le mani tutte incremate non riesco neanche ad aprirle cioè guarda addio mio stupendo 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 hand cream, crema mani notte, con estratte di lavanda, burro di careté e vitamina E. La formula con il 98% di ingredienti naturali. Anche questo odore è molto 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 piacevole. C'è una luna qui, quindi c'è la notte. Ok. Dammi le mani. Grazie. Grazie. Ok. Ne metto ancora un po'. Si sente che nutriente ma si assorbe veramente subitissimo. Ok. Ti piace questo massaggio alle mani? Scrivi tanto. Non ci prendiamo mai abbastanza cura delle nostre mani secondo me. Adesso ci faccio un piccolo massaggio. no, non c'è la crema, praticamente sono idratata anche le mie allora, io ho finito di coccolarti, spero davvero che questo momento vi abbia fatto bene a me fa veramente bene poter prendermi un pochino cura di te e della tua salute perché un corpo lavora bene se ogni tanto riesce a riposarsi, a staccare altrimenti dopo non riusciresti a lavorare al ritmo con quello che stai facendo ora quindi prenditi il tuo riposo perché è importante tanto quanto i momenti in cui invece ce la si mette tutta quindi io ti auguro una buona serata e una buona settimana se non ci vedremo e veramente sono fiera di te del lavoro che stai facendo, di quanto impegno ci stai mettendo e ricorda che devi ogni tanto prenderti i momenti di relax e io sarò sempre, sempre, sempre qui per te ad aiutarti, ok? quindi non ti preoccupare quando ne hai bisogno vieni qui devi prendere cura cura di te come ho fatto oggi io ti mando un bacione che li spera chuffe 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 Grazie.